Questo però è un fatto nostro, sul quale posso anche non rispondere. Allora una curiosità, ma come mai fu stabilita questa cifra precisa, 94 milioni e 736 mila euro? Questo si può sapere? Tre anni fa, mi pare. Come mai questa cifra precisa? Scusami, io pago 40 milioni un giocatore, 38 più 2 di bonus, eccetera, eccetera. Un giocatore che ha fatto 120 gol nel Real Madrid e che l'ultimo campionato ha fatto nel Real Madrid ha giocato 45 partite facendo 17 gol. Sono preparato? Bene. Ok, mi ricordo le cose. Allora non ho capito che faccio, non mi proteggo? Cioè noi facciamo il discorso, lì era in concorrenza, qui non è in concorrenza. Se lì ne fa 17, da noi ne farà di più, dopo mi romperanno le scatole tutti e allora uno mette un freno. Ma perché Cavani non c'era un freno? Perché ci sono dei parametri. No, ma Cavani non c'era un freno, te lo ricordi? Cavani mi è stato pagato 70 milioni lordi pari a 65 milioni netti. Ma mica perché c'era una clausola. Ti fa dare un attimo microfono, per te. Poi non mi fate diventare antipatico, perché io quando comincio a fare un professore, se mi fate diventare subito antipatico, cacacazzi e compagnia bella. Fatemi rimanere sereno, rilassato, stiamo in montagna. Vai. Bello, fa un caldo per la Madonna.